Buongiorno a tutti amici dell'Adige, mi chiamo Marco Togni, sono un trentino doc di Rovereto e da alcuni anni abito qui in Giappone. Vi voglio mostrare il mio libro instant giapponese che ho appena pubblicato con Gribaudo Feltrinelli e che trovate in tutte le librerie d'Italia. Ci tengo molto a farvi vedere il mio libro perché spero siate orgogliosi di vedere quello che un vostro conterraneo sta facendo dall'altra parte del mondo. È un libro dove spiego le basi della lingua e le sfumature della cultura giapponese. Chiaramente si inizia con cose abbastanza semplici come sono i saluti e i ringraziamenti per poi proseguire verso argomenti un po' più difficilini come per esempio la scrittura, ma affrontando il tutto in modo molto semplice e se vogliamo anche divertente. Per esempio ci sono questi simboli giapponesi che alcuni sono complicatissimi e altri sono molto più facili tant'è che guardandoli ricordano vagamente il loro significato. Guardate ad esempio questi due kanji, quello a destra significa uomo e una delle letture possibili è otoko, mentre quello a sinistra significa donna e una delle letture possibili è onna. Guardateli però bene questi due kanji, quello dell'uomo sembra effettivamente un uomo in posa fiero, no? Mentre quello della donna ricorda una ragazza con le gambe incrociate in modo grazioso. E di questi esempi nel libro ce ne sono tantissimi, quindi è anche carino imparare in questo modo. E oltre a questo nel libro poi ci sono alcuni approfondimenti culturali. Per esempio parlo del sushi, dei templi, do alcuni consigli su cosa visitare in Giappone e dei consigli concreti sul lavoro in Giappone. Sì, perché per comprendere il giapponese non è solo importante conoscere la lingua, ma anche è importante conoscere i vari aspetti della vita quotidiana. Ad esempio come dare un biglietto da visita, come rispondere ai complimenti che vengono fatti e tante altre cose. Il capitolo che mi piace di più in assoluto è quello sulle espressioni comuni, perché ho raccolto tutte quelle espressioni che si utilizzano ogni giorno qui in Giappone, ma che in genere non si trovano sui libri di lingua. Come dicevo spero siete veramente orgogliosi di quello che un trentino sta facendo dall'altra parte del mondo. Ricordatevi, Instant Giapponese, editore Gribaudo Feltrinelli, lo trovate in tutte le librerie d'Italia. E io vi aspetto qui in Giappone. Ciao ciao!